Dopo mesi di lotte interne si è conclusa con l'ordinanza del TAR la polemica sulla nomina del nuovo CDA del Konami. Il comune di Imola ha avuto la ragione dal Tribunale Amministrativo, che ha riconosciuto l'interesse pubblico nell'agire forzoso della sindaca di Imola il 17 gennaio scorso. Durante un'ennesima seduta dell'Assemblea dei Soci Semideserta, la San Giorgia aveva infatti nominato da sola, in quanto Presidente dell'Assemblea nel ruolo di socio di maggioranza, il nuovo CDA del Consorzio facendo leva sul Codice Civile. A seguito di questa presa di posizione, i primi cittadini degli altri 21 comuni che compongono l'Assemblea del Konami, tutti tranne il comune di Firenzuola, si erano uniti facendo partire il ricorso al TAR. Oggi, in una conferenza stampa, Imola ha dato la notizia della propria vittoria ed ora si ripartirà con la programmazione delle attività, sbloccando una situazione di stallo che dura ormai dallo scorso agosto. Questa è un'ordinanza del TAR che rigetta la sospensiva delle azioni del nuovo CDA che aveva chiesto chi, coloro che rappresentano il 34% del consorzio. Quindi ha prevalso proprio l'interesse delle comunità, quindi l'interesse pubblico, su quello che era un'azione tecnica che avevano chiesto gli altri sindaci, gli altri componenti dell'Assemblea dei Soci. La linea che avevano tenuto era una linea giusta e corretta, infatti abbiamo ovviamente seguito una linea legale per proprio uscire da questo stallo perché bisognava dare delle risposte ai territori, ai cittadini imolesi e non solo, proprio per continuare gli investimenti. Immediatamente è tutta la costruzione che interessa osservanza e quindi il polo universitario, c'è tutta la questione idrica ma di fondamentale importanza il programma triennale, quindi il colloquio con i sindaci, riaprire il dialogo con i sindaci perché senza la programmazione non può esserci l'attività del CONAMI. Grazie.